Non è vaiolo. I test fanno pensare a qualche altra infezione. Globuli bianchi bassi. Masters, tu ce l'hai un ragazzo? Non sono affari suoi. Forse è solo un periodo di magra. House, ti sei reso conto che abbiamo appena escluso il vaiolo? Saresti più carina del solito con un teorico ragazzo se fossi arrabbiata con lui? Credo che potrei essere più carina del solito perché sono arrabbiata e voglio allontanarlo per non vederlo mai più. Sei una stronza passiva aggressiva. È stato lei a chiedervi... E gli inutili testi di forma... Negativi per varicella e morbillo, perciò le nostre idee sono da escludere. Rimetto in gioco la mia. La paziente è una sub, sotto una forte pressione tutto nel sangue si spaventa, scappa e si nasconde. Anticorpi nelle articolazioni? Controllate le caviglie e le altre articolazioni del suo corpo infestato dal vaiolo. Bella chiacchierata. Grazie. 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 Grazie.